Buon pomeriggio amici, oggi ci ritroviamo per parlare un po' insieme brevemente del tema delle ristampe che mi sta a cuore. Perché mi sta a cuore? Perché io tante volte ho comprato, ricomprato e comprato ancora edizioni cosiddette rimasterizzate di dischi di cui avevo l'edizione originale o delle prime ristampe, sperando di poterne ricevere da queste nuove edizioni un piacere di ascolto migliore e maggiore, ma ben raramente questo si è verificato. Questo perché i miei embotti lo sostengono, dietro queste edizioni ci sono degli scopi che sono prettamente e comprensibilmente commerciali, si crea il bisogno nell'utente, nell'ascoltatore, questo attratto da alcune caratteristiche millantate, tipo appunto la rimasterizzazione, ricompra il disco. Io non so quante edizioni ho di King Crimson, mi vergogno, ma quando voglio ascoltare bene, ascolto un'edizione originale e si sente splendidamente, ma anche una prima ristampa. Ci sono delle eccezioni. La storica Mobile Fidelity statunitense per anni, cominciata negli anni settanta, ha realizzato edizioni meravigliose dei Beatles, di Rolling Stones, di Bob Dylan e di altri. Tra l'altro utilizzando per la stampa una grammatura dei dischi bassissima, cioè i dischi di quell'epoca sembrano delle orce, sono sottilissimi, sono splendidamente. Quindi un altro mito che mi preme criticare, sfatare, è quello della grammatura del disco. Oggi si strombazzano i dischi a 180-200 grammi come se questo fosse un prerequisito di una miglioreza sonora. No, assolutamente. La Mobile Fidelity ne è un esempio. Cito un caso emblematico, interessante della gloriosa, meritoria Classic Records, oggi purtroppo non più attiva, che alcuni anni fa ristampò quadrofina degli Who nel doppio formato a 200 grammi e a 140. Andando a seguire i dibattiti, nei social eccetera, nei gruppi, si vede invece, io ne sono testimone, perché l'ho avuta entrambe, che Greg Lake tra l'altro anche lui affermava questa idea, che la grammatura più bassa a 140 grammi suonasse meglio di quella a 200. Quindi anche il mondo della musica, come quello di tutti i campi della vita, insomma, affettiva, sociale, relazionale, economica, vive spesso di falsi miti. Questa volta, finita questa premessa, vi vorrei parlare di un bel disco, che è un disco di Oray Silver, ve lo faccio vedere, che è questo, Song for my Father. La prima edizione statunitense è del 1964. In Europa fu ristampata per la prima volta in Germania nel 73 e in Italia mai, se non negli anni 2000. L'edizione tra cui faccio riferimento per il confronto è appunto questa, che vi ho fatto vedere prima, che è un'edizione francese dell'82, quindi verosimilmente ancora analogica. E la recentissima ristampa della Blue Note di quest'anno, che appartiene a una serie che è stata pubblicata in occasione dell'85esimo anno di questa curiosissima etichetta, ci hanno registrato Miles Davis, John Coltrane, Harvard Blackie, Ressivri, Wayne Shorter, Ciccoria e tantissimi Apple Chambers e tantissimi altri Tony Williams storici musicisti. E l'ho fatto perché questo disco è un disco notevole e volevo mettere a confronto le due edizioni, quella francese dell'82 e questa del 2024, che è tedesca, per vedere come suonavano. E ho fatto un confronto ovviamente laico. Ho messo su il disco, ho sentito prima la prima facciata di un'edizione, poi la stessa facciata dell'altra e inizialmente l'idea che mi ero fatto era che la stampa più datata, quello dell'82 suonasse peggio. Perché il suono era un po' più, non dico confuso, però impersonale, forse in colore, meno brillante. Mentre l'edizione recente di quest'anno della Blue Note tedesca suonava pur con un buonissimo timbro, non digitale, non falso, assolutamente non sgradevole, suonasse un po' più brillante. Poi invece ho fatto caso, dopo, che l'edizione più datata, quella francese, suonava a un volume leggermente più basso. Allora ho rifatto il confronto e ho ascoltato l'edizione francese dell'82 aumentando il volume del 5% e lasciando inalterato invece il volume nell'edizione tedesca del 2024. Quando si ascolta musica a diversi volumi, la stessa musica, questa musica non suona solo più piano o più forte, ma cambiano i rapporti fra le frequenze. Quindi, tanto più a basso volume uno ascolta un disco, una canzone, e tanto più tendono a scomparire, ad attenuarsi le frequenze più basse e quelle più acute. Voi ricorderete, quelli che hanno la mia età, negli amplificatori di un tempo c'era la funzione loudness, no? Che veniva utilizzata a basso volume, appunto perché ascoltando un disco a volume più basso del normale, attivando questa funzione venivano enfatizzate le frequenze più acute e quelle più basse. Quindi, riportando il volume, diciamo, del confronto a parità di entrambe, credo di potervi dire, ho fatto un ascolto accurato e ripetuto, che queste due edizioni suonano esattamente lo stesso modo. Il che è una notizia magnifica, perché la Blu Note, in questa nuova edizione, quella di quest'anno, non humillante, rimasterizzato, migliorato, niente. Ha fatto un lavoro splendido, perché consente a chi non ha più accesso alle edizioni di un tempo, di poter acquistare un disco che suona molto bene, molto bene. E quindi, se uno ha già il disco dell'epoca, non ha senso, ma chi invece, e penso specialmente giovani, questo accesso non l'ha, comprare oggi queste edizioni, come anche altre della Blu Note, che sono appunto uscite quest'anno, certamente rappresenta questo un'ottima soluzione. E questo, quindi, un più sul registro della Blu Note, che ha lavorato benissimo. Non è sempre così, sapete. In tempi recenti ho acquistato, per esempio, una ristampa di Astral Wix di Van Morrison e sono rimasto inorridito dal quanto suonasse male il vinile. Un suono artefatto brillante, mi verrebbe da dire come un cattivo CD. Come un disco di João Gilberto, un musicista brasiliano, un disco di anni Sessanta, comprato tempo fa. Anche quello, l'LP a 33 giri suonava male. In quella stessa edizione era inserito come omaggio il CD e il CD suonava meglio. Quindi provenivano entrambi, verosimilmente, dalla stessa sorgente, che aveva seguito il doppio binario, analogico e digitale. Quindi, come diceva il vecchio saggio George Martin, All you need is ears. Cioè, gli ascolti vanno fatti, a mio avviso, in modo laico. Senza lasciarsi incantare da quello che viene millantato, come rimasterizzato, ma affidandosi soltanto alle proprie orecchie. Quindi, bene, buone notizie. Il Cato discografico propone delle edizioni di dischi molto belli, a prezzi ragionevoli e di ottima qualità sonora, acustica. Quindi, buoni ascolti e alla prossima. Ciao!